Ciao a tutti! La tecnologia cambia in continuazione, quello che abbiamo cambia, evolve, migliora e questo succede anche per la smart home, che a breve vedrà uno dei miglioramenti e dei cambiamenti più importanti degli ultimi anni. Con i cambiamenti arriva anche l'incertezza. La smart home in cui viviamo, o quella che stiamo progettando, rischia di diventare incompatibile con ciò che uscirà in futuro? Niente panico e scopriamolo assieme! Una delle cose più frustranti che noi tutti appassionati di smart home abbiamo incontrato in questi anni era cercare continuamente di capire se il prodotto che ci interessava era compatibile con ciò che avevamo già, se poteva lavorare assieme con ciò che c'era nella nostra casa. Personalmente ho ricevuto migliaia di domande del tipo, ma se prendo questa cosa poi posso automatizzare quest'altra? Questo è uno dei motivi per cui consiglio sempre di aspettare a comprare i device finché non si è scelto l'ecosistema di smart home che si vuole utilizzare. Altrimenti si rischia, anzi purtroppo succederà di sicuro, di trovarsi con tanti prodotti diversi che tra di loro non si parlano o che richiedono degli sforzi assurdi per essere integrati. Sicuramente scegliere un ecosistema, io consiglio sempre Samsung SmartThings perché è uno di quelli con più compatibilità, è un buon punto di partenza, ma per tante persone resta comunque complicato. Di questo si sono rese conto ovviamente anche le aziende che ci riporniscono di prodotti connessi, di elettrodomestici, di servizi di connettività, di servizi di automazione. Da un paio d'anni infatti i principali player del settore smart home, da Google a Amazon, da Samsung a Apple, ma anche player più tradizionali come Legrand che possiede il marchio BTC, si sono messi a collaborare nel cosiddetto progetto Connected Home Over IP o CIP per gli amici, coordinata in questo dalla Zigbee Alliance che è l'organizzazione che si è occupata finora di far evolvere e mantenere lo standard del protocollo Zigbee. L'idea alla base era piuttosto ambiziosa, cioè creare uno standard per cui tutti i prodotti e tutti i servizi che derivano questo standard fossero chiaramente identificabili e una persona che li comprasse potesse essere sicura che funzionavano tra di loro. Si è capito da subito che il progetto CIP era interessato in particolare a due standard di comunicazione, il Wi-Fi e il protocollo radio Thread, ma come sapete ad oggi nella smart home i protocolli usati sono altri, soprattutto Zigbee e Z-Wave. Da qui il dubbio, questo progetto CIP renderà obsoleto tutto ciò che ho preso finora? Dovrò buttare via tutto per godere dei vantaggi del nuovo standard? Ah, una cosa che ha senso che mi dica a questo punto è che Project CIP ha cambiato nome in qualcosa di più orrecchiabile. Si chiamerà Matter o Matter all'italiana. Anche la Zigbee Alliance, che a questo punto non ha più Zigbee come centro del suo interesse, ha cambiato nome in Connectivity Standard Alliance, quindi Alleanza per i standard di connettività, indicando come Zigbee non sarà più lo standard che spingeranno soprattutto. Il cambiamento di nome è recente di due settimane fa, ma Project CIP ci ha fatto bollire nel nostro brodo per un bel po', almeno un paio d'anni. Poi finalmente un mese e mezzo fa hanno fatto un convegno online a cui si poteva accedere tramite Zoom, in cui hanno comunicato finalmente cosa avevano prodotto. A questo convegno ha partecipato come relatore, cosa parecchio rassicurante per quanto mi riguarda, uno del direttore di Samsung SmartThings, insieme a persone di Google e ovviamente della Zigbee Alliance. Quello che hanno chiarito è che Matter avrebbe avuto sì degli standard comunicativi predefiniti, quindi Wi-Fi a thread, ma che si sarebbe occupata soprattutto del layer applicativo, che è la punta della piramide che qui vedete. Quello che interessa sapere a noi, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, è che Matter come application layer permetterà alle aziende di produrre dei prodotti che siano integrabili in Matter senza sviluppare delle applicazioni specifiche, e questo succedeva già per esempio per Zigbee e ZetaWave, ma anche senza sviluppare delle integrazioni specifiche, come i device handler per esempio, per chi conosce il mondo SmartThings, che invece erano a volte richiesti per quanto riguarda i prodotti Zigbee e ZetaWave. In parole povere, l'azienda crea un prodotto secondo certi standard e questo prodotto funziona con l'ecosistema Matter senza niente, che è un vantaggio per l'azienda ed è un vantaggio anche per il cliente, perché non dovrà installare l'ennesima app per far funzionare quel dispositivo con l'ecosistema dei prodotti che già possiede. Non dovrà neanche installare l'ennesima integrazione, per esempio il device handler in SmartThings, oppure la skill in A, oppure l'integrazione in Google Assistant. Soprattutto non dovranno sviluppare l'integrazione via API a livello di cloud, perché l'interazione tra device e Matter avviene a livello locale. I metodi di comunicazione preferiti da Matter per far parlare i device saranno Ethernet e Wi-Fi, quindi la classica connettività di rete, e Thread, che è un protocollo radio simile allo Zigbee, ma basato su IP, quindi i device Thread avranno un indirizzo IP sulla vostra rete. Verrà utilizzato anche il Bluetooth, ma soprattutto per permettere il pair dei device con Matter tramite il vostro smartphone. Come forse sapete, in generale a me non piace per niente l'utilizzo del Wi-Fi per certi tipi di dispositivi, ad esempio i sensori. C'è però da dire che il Wi-Fi è irrinunciabile come protocollo per tanti dispositivi, tra cui gli elettrodomestici di uso generico, pensate ai frigoriferi, i climatizzatori, le televisioni, che ovviamente non possono richiedere l'utilizzo di uno hub per connettersi a una rete. Ci sono poi device come le telecamere che richiedono molta banda e quindi il Wi-Fi è il protocollo corretto per questi dispositivi. Infine c'è da dire che si sta diffondendo il Wi-Fi 6, che è un Wi-Fi studiato con in mente proprio l'Internet of Things e la Smart Home. Infatti permette la connessione di un numero molto maggiore di device con latenze inferiori e ha dei meccanismi per cui permette anche a certi dispositivi di consumare di meno, che è fondamentale per i device alimentati a batteria, appunto come i sensori che dicevo prima. Quindi il Wi-Fi sta diventando più interessante come protocollo Smart Home e Matter infatti intende adottarlo ampiamente. Per quanto riguarda Thread, questo è un protocollo radio molto simile a Zigbee, come vi dicevo, lavora tipicamente a 2,4 GHz come Zigbee e come Wi-Fi, qui c'è una questione di traffico radio da valutare e ha il vantaggio di basarsi su un diritto IP, quindi rendere più facilmente integrabili nell'ecosistema come Matter il dispositivo che volete aggiungere. Essendo un protocollo radio specifico, Thread come Zigbee e come Z-Wave avrà bisogno di una sorta di hub che si chiama Thread Router. Però questo router non sarà un dispositivo a sé stante, sarà tipicamente nei progetti di Matter, incluso in un altro device che potrebbe essere il vostro router Wi-Fi, potrebbe essere uno smart speaker o uno smart display come il Nest Hub, uno dei quali c'era già. Alcuni device Apple hanno già Thread integrato e quindi questi device saranno in grado di fare da ponte tra i vostri device Thread e la vostra rete locale, collegandoli con gli altri device della vostra rete e ovviamente anche con internet. Tra l'altro si è visto che Thread performa addirittura meglio di Zigbee per quanto riguarda la latenza, quindi è un protocollo che effettivamente è nato per la smart home e funziona molto bene per questo tipo di applicazioni. La combinazione di Wi-Fi, Ethernet e Thread sembra quindi la scelta vincente. Per ora però è praticamente impossibile farsi una smart home basata su Thread e comunque lo standard matter non è ancora disponibile sul mercato, quindi sarebbe impossibile o davvero davvero complesso integrarli in un ecosistema unitario. Ad oggi quello a cui ci si può affidare e sarà così ancora per molti mesi sono gli standard comunque ottimi di Zigbee e Z-Wave. Ovviamente il Wi-Fi per quanto riguarda alcuni dispositivi e l'utilizzo che io continuo a consigliare degli hub domotici. Cosa deve fare quindi chi sta progettando adesso la sua smart home perché ha comprato casa, perché sta facendo dei lavori o chi ha già una smart home e la vuole far evolvere in base alle sue abitudini e alle proprie ambizioni di automazione nei prossimi mesi senza dover star fermo magari un anno in attesa del nuovo standard. E poi i dispositivi che ho oggi basati su Zigbee e Z-Wave funzioneranno in matter? Potranno parlarsi di quei device che prenderò in futuro marchiati Matter? Ebbene quello che è stato detto alla conferenza e che è molto importante è che all'inizio Matter integrerà solo certe classi di device, in particolare illuminazione, quindi lampadine e attuatori per l'illuminazione, controllo degli accessi, quindi tipicamente smart lock, serrature connesse, climatizzazione, quindi riscaldamento e area condizionata connessa, televisori, tende veneziane e altre cose che scorrono in verticale o in orizzontale, telecamere, sirene e altri device relativi alla sicurezza e attenzione attenzione hub e bridge, questa è un'informazione fondamentale perché ci permette di capire che all'interno del ecosistema Matter potrebbero esserci dei dispositivi bridge o hub che permettono di connettere a questo ecosistema dispositivi con protocolli radio diversi e non previsti inattivamente da Matter, questo è fondamentale perché vuol dire che potrete integrare in Matter il vostro attuale hub o bridge che usate per connettere i vostri device ZigBee ZetaWave alla vostra rete, alla vostra smart home e anche viceversa perché sarà anche lo hub che è dotato ovviamente di unirizzo IP ed è connesso alla rete a vedere i device Matter sulla rete, quindi potreste vedere in Matter qualsiasi ecosistema utilizzate per gestirlo i device che avete collegati allo hub o potrete vedere nell'ecosistema che usate oggi per gestire il vostro hub i dispositivi che avete integrato in Matter, in particolare Signify U, so benissimo che non si pronuncia H-O-E e non è più Philips come qualcuno mi ha fatto notare, ha già dichiarato che le loro lampadine resteranno almeno per adesso ZigBee, è uno standard in cui hanno investito tanto e con cui si trovano molto bene, ma il loro bridge sarà integrato in Matter, questo per chi come me ha una quarantina di luci U è un bel sollievo, fortunatamente e anche qui parlo anche per mio interesse personale, anche Samsung SmartThings ha dichiarato prontamente che il loro hub si integrerà in Matter, non hanno dichiarato i dettagli tecnici ma hanno detto che continueranno a supportare gli standard ZigBee e Z-Wave su cui i loro clienti hanno investito tanto e permetteranno di portarli nell'ecosistema Matter. A questo punto prima di andare avanti con un po' di considerazioni, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi piace quello che faccio, cercherò sempre di portarvi tutte le informazioni che potrebbero essere importanti per le vostre scelte, anche quando i video non sono divertenti come quando monto e provo qualcosa, la ritengo una mia responsabilità nei vostri confronti. Quindi quello che potrebbe succedere nei prossimi anni, secondo me, è che quando Matter arriverà sul mercato inizieremo a comprare sempre più spesso device Thread e Wi-Fi 6. Nel frattempo però potremo tranquillamente continuare a utilizzare, e li utilizzeremo probabilmente fino alla fine del loro ciclo di vita, i device che abbiamo comprato finora, sempre naturalmente che siano integrati in un ecosistema che garantirà, come U e come SmartThings, la compatibilità con Matter. E qui pagherà l'aver scelto prodotti di aziende che non guardano al loro orticello, ma guardano in generale all'esperienza dei loro clienti, sono aperti all'integrazione e guardano al futuro. Un consiglio importante che mi sento di darvi è, negli acquisti dei prossimi mesi, di valutare se l'azienda di cui comprate i prodotti ha già dichiarato o meno l'integrazione in Matter. Questo potrebbe garantirvi la vitalità del prodotto negli anni a venire. Ancora meglio potrebbe essere scoprire che il prodotto che già avete in casa integra già delle caratteristiche utili a Matter. Per esempio, ho scoperto che lo Hub V3 di SmartThings ha già un'antenna Thread integrata e spenta, sviluppata nell'ottica delle future integrazioni. E guarda caso Thread è proprio il protocollo che Matter ha scelto. Questa è davvero la sensazione di un'azienda che, quando sviluppa un prodotto, pensa al comfort e anche alla risa sull'investimento dei propri clienti negli anni a venire. Non posso assicurarvi ovviamente al 100% che verrà abilitata, ma sembra molto plausibile. Come è plausibile che usciranno ovviamente anche Hub con Thread per chi adesso usa un Hub che non lo ha. C'è un ultimo aspetto di cui voglio parlarvi, anche se ce ne sarebbero diversi altri, da cui la sicurezza, ma non ci sta tutto in un video e ne farò degli altri mano a mano che escono novità. Riguarda la caratteristica di Matter chiamata multi-admin. Perché è importante? Matter non nasce con l'idea che tutti partano da zero, come spesso purtroppo tanti produttori fanno quando mettono in commercio i loro prodotti. Ci sono tantissime app ecosistemi per la gestione della smart home. Ad esempio uso Samsung Smartings per aggregare anche le mie telecamere Arlo, il mio citofono ring, l'aspirapolvere robot di Neato, i primi pulsanti di Switchbot e tanti altri. Voi magari utilizzate Amazon A, Google Home, HomeKit o Home Assistant. La novità è che potrete continuare a farlo, ma per farlo con Matter non dovrete integrare una serie di servizi cloud e soprattutto che i device che non avranno più la loro app spesso non dovrete assegnarli a un ecosistema o a un altro a seconda di quello che preferite voi. Perché magari in casa avete altre persone, i vostri familiari, che utilizzano un altro sistema per preferenza o per semplicità. Ma potrete integrare contemporaneamente il vostro device Matter in tutti gli ecosistemi, anche con autorizzazioni diverse. Quindi potete dire ad esempio che il Google Home di vostro figlio vede questo, questo, questo device perché vostro figlio non usa HomeKit per esempio perché non ha Apple o non usa Home Assistant perché è troppo complicato e da lì può vedere e controllare i device relativi alla sua cameretta. E magari vostra moglie o marito che è meno smanettone di voi usa sul suo iPhone HomeKit con Siri per semplicità e anche lì vede tutta una serie di dispositivi. E voi che utilizzate magari Samsung SmartThings o Home Assistant per gestire e creare tutte le automazioni a livello di dettaglio, potrete continuare a utilizzarlo vedendo complessivamente tutti i device. Tutti questi ecosistemi avranno delle autorizzazioni per controllare direttamente i device a livello locale. Se voi ad esempio avete nella vostra rete un set di attuatori Thread, questi o alcuni di questi potranno essere controllabili contemporaneamente dal vostro hub di SmartThings, dal Nest Hub di Google e da un server di Home Assistant. Tutto ciò ovviamente anche senza diventare pazzi a settare sincronizzazioni o integrazioni a cascata o autorizzazioni sulle app. Personalmente sono davvero esaltato da questo salto in avanti che l'industria della smart home sta per fare. Ci sono un sacco di conferme che questo sarà davvero un cambiamento epocale. Come vi ho detto Samsung SmartThings e Signify U già hanno confermato ma anche Google negli ultimi giorni ha dichiarato che i dispositivi Android saranno notivamente compatibili con Matter. Io non vedo l'ora di capire le integrazioni e le automazioni che saranno possibili con Matter o anche solo come questo migliorerà l'affidabilità e la performance delle automazioni che già facciamo. Bene spero che questo video diverso dai soliti in cui provo qualcosa e che so benissimo essere quelli che vi piacciono di più vi sia comunque stato utile per i vostri ragionamenti sulla smart home. Lasciate un like per farmelo sapere. Un saluto e alla prossima! Grazie a tutti!